Monachello perché hai cambiato un po' la partita nel secondo tempo, tanta voglia di fare il gol che poteva riaccenderla, peccato perché il risultato è ampiamente penalizzante. Sì, sicuramente il risultato ci ha penalizzati perché prima di subire il primo gol secondo me abbiamo avuto un paio di occasioni con Mars, con Mancuso, non siamo riusciti a segnare perché a volte ci sono partite giornate come oggi che hai dei breakout dove magari ti gira tutto storto e ti gira l'altra squadra. Secondo me in alcune circostanze l'habit è un po' esagerato come l'ultimo rigore. Bastiani è stato durissimo ai nostri microfoni. Secondo me c'ha ragione perché non è possibile, sul 3-0 nel dubbio non fischi, sul 3-0 per loro nel dubbio in casa nostra non fischi, però l'habit può anche sbagliare, è un essere umano, quindi noi dobbiamo rimboccarci le maniche e ripartire perché abbiamo la fortuna che abbiamo un'altra partita. Betano, dovevi andare via, poi le dinamiche di mercato ti hanno tenuto a Pescara, hai dimostrato di poterci stare alla grande, ora quella maglia non vuole lasciarla più, intendo quella da titolare. No, diciamo che io mi sono sempre messo in gioco, ho avuto anche io delle occasioni anche a Verona che secondo me sono stato, una magari l'avevo sbagliata ma sono stato anche sfortunato come oggi, ho girato la palla di testa, ha sfiorato l'ingrocio dei pali e speravo che entrasse la prima occasione, però diciamo che magari ci saranno periodi migliori dopo che quando mi sbatterà addosso magari entrerà. Però sono contento, avevo voglia di giocare perché sono qui per dimostrare, molte volte mi volevano via da qui, io ho resistito perché questo è il mio lavoro e cerco di lottare sempre con tutto quello che ho perché secondo me con i miei compagni ci posso stare perché anche loro mi hanno dimostrato che mi vogliono con loro.